Santieri! Per trovare le parole e le domande, tutto il tempo. Mi sembrate, riconoscete Stupadelli? Stupadelli? Ecco, sembrate tanti stupadelli che si dico in questa persona. Stupadelli. Siete fantastici. Voglio bene a voi, voglio bene a Sessina. Quello spero possa finire con il disastro che ci hanno organizzato. E soprattutto, cerchiamo di produrre il gas. Visto che abbiamo la possibilità di farlo. Buono bene. Nel frattempo abbiamo anche Ben Redditor, Rigo Inventi e Vodipoli. E non l'ultimo, non lo pensare. No, no, no! No, anch'io voglio ringraziarli. Perché in un momento storico come questo non è mai sfruttato avere un pubblico di fronte. Voi ci siete, siete tanti. Siete con la mascherina, tra qualche giorno, probabilmente neanche più la mascherina. Quindi noi torneremo la prossima volta e vivremo sempre la mascherina. Grazie di essere. Scusate, adesso. Io volevo, però scusate, volevo chiamare un mio amico. No? Che è lui. È lui che... Grazie a lui. Grazie a lui. Grazie a lui. Grazie a lui. No, Edo, Edo, vieni qua. Edoardo, vieni qua. 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 Grazie. Grazie a tutti voi. Soprattutto grazie a Davide, a Ricci, al Presidente Leiman, a Rotary. Sappiate che parte di Ricavato andrà in beneficenza, concorderemo con le associazioni di destinare parte dell'incasso. Grazie per chi ci ha supportato e supportato in questa avventura, soprattutto a voi che avete dovuto tenere le mascherine tutte queste ore seduti. Speriamo di tornare in estate. So che c'è il sindaco da qualche parte. Vi strappiamo... Vi strappiamo... Eccolo. Vi strappiamo... Una... Una promessa. Vediamo se possiamo tornare questa estate alla Grigiant. Grazie a tutti. 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 Se niente 하지 male, perché le nostre Bund Sunni e laZio è passare allaStravella è języom andعلità di nè militare da si. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.